Green Pass, mascherine, quarantene e obbligo vaccinale. Dal 1 aprile l'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e decadono sia il Comitato Tecnico Scientifico sia la struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo. Anche il sistema colori viene abrogato e termina l'obbligo del Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Stop al certificato verde sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove però si dovranno indossare le mascherine fino al prossimo 30 aprile. Il pass base poi non sarà più necessario per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Anche nei bar e nei ristoranti all'aperto non sarà più prevista l'esibizione del certificato, così come dal parrucchiere e nei centri estetici. Inoltre, da venerdì decade il limite alle capienze nelle strutture, come negli stadi, dove per accedere sarà richiesto lascia passare base, ma sarà possibile occupare il 100% dei posti. Novità in vista anche per le quarantene, dovrà restare in auto-isolamento solo chi ha contratto il virus, mentre chiunque abbia avuto un contatto con un positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza indossando la mascherina FFP2. Non ci sarà più la distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Dal 1 maggio via le mascherine nei luoghi al chiuso, mentre dal 15 giugno decadono tutti gli obblighi vaccinali istituiti dal governo in questi due anni di pandemia. Dunque un allentamento delle misure, anche se graduale, che torna a dare respiro agli esercenti, duramente colpiti dalla crisi sanitaria ed economica. Si comincia a vedere un pochino la luce, finalmente. I danni sono stati grossi anche da parte nostra come attività, come operatori, perché giustamente in questi due anni siamo stati costretti a far rigare dritto i nostri clienti con le distanze, con le certificazioni, con le entrate e le uscite dal bar. E quindi sta cosa ci ha notevolmente incasinato, diciamo così. E quindi questo poi riflette anche tutto quello che è il lavoro nostro del bar. All'interno dei bar, ha poi ricordato Roberto Tarsi, restano in vigore le norme attuali. Infatti fino al 30 aprile non si può consumare al bancone o seduti al tavolo senza green pass base, cioè quello che si ottiene con la vaccinazione, la guarigione oppure con un tampone negativo. I clienti dovranno ancora indossare la mascherina finché non sono seduti, così come negli spostamenti all'interno del locale. Questa situazione ci ha danneggiato enormemente perché la gente giustamente aveva paura, non stava chiuso, anche all'aperta aveva delle difficoltà. Sono cambiate parecchie abitudini anche della clientela, delle persone nel far colazione, nel venire al bar come nell'andare negli altri posti. E quindi sta cosa ha influito notevolmente su quello che è il nostro lavoro e su quelli che sono i nostri fatturati. Noi ci aspettiamo con la bella stagione che la città un attimino prende più corpo e dove la gente possa un attimino viaggiare e transitare con più libertà senza avere l'oppressione del covid, dell'emergenza sanitaria perché se ne è parlato tanto, troppo e quindi noi operatori da quest'altra parte non vediamo l'ora che tutto questo finisca. Il nostro lavoro è quello di unire le persone, di fare gruppo e di cercare di lavorare appunto nel sociale e tutta questa situazione che si è creata praticamente ha remato contro quello che è il nostro lavoro, la nostra missione.